Si parte con l'intervento per ripristinare la strada da Malfi. Poco più di un mese dopo la frana che lo scorso 2 febbraio ha interrotto la circolazione stradale sulla 163, gli operai dell'ANAS, lente che ha competenza sull'arteria, hanno potuto avviare la ricostruzione della statale. Completato a tempi di record complici anche le buone condizioni meteorologiche e i lavori di messa in sicurezza realizzati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, è stato possibile finalmente dare operatività al terzo cantiere dell'ANAS, quello che attraverso un progetto di oltre un milione di euro in poco meno di tre mesi consentirà di ricollegare i comuni tagliati fuori dalla frana. Nel dettaglio l'intervento già finanziato con risorse ANAS prevede la realizzazione di una rete di micropali sulla quale verrà costruito un muro fondante con un sistema di tiranti. Il muro verrà realizzato attraverso cinque fasi di cantiere fino al raggiungimento della quota strada dove verrà costruita una seletta in cemento armato con parapetto e successivamente verrà ripristinata la pavimentazione. Come ha fatto sapere l'ANAS con l'esecuzione di tali lavori sarà quindi possibile ripristinare la circolazione e successivamente l'ANAS realizzerà, non interferendo con la viabilità, altre opere complementari che consisteranno in un'attività di manutenzione della galleria adiacente e nel ripristino del sistema di archi preesistente.